Eccola impegnata Lara Filippi. Lara Filippi è una delle titolari, possiamo dire, se un altro fa parte della rossa della prima squadra della ginnastica femminile italiana, è sesta nella graduatoria provvisoria, Livornese, Toscana, gareggia appunto per la società ginnastica Livornese. Ha fatto parte della nostra rappresentativa gli ultimi campionati del mondo di Stoccarda e si è comportata direi in modo egregio, una ginnasta sicura, molto espressiva e ha esercizi che sono competitivi sia alle parallele dove riesce ad esprimersi a un buonissimo livello e sia anche al volteggio. Adesso è per la diagonale conclusiva, aspetto un doppio salto però arrivo in preciso e rotolamento in avanti. Penalità netta perciò per questa ginnasta. Non è riuscita a evitare lo sbilanciamento.